Inquadrata Crystal, la vincitrice di Miss e Mister Dog al Parco della Libertà di Montesilvano. Siamo con Gabriele, il suo padrone. Che tipo di cane è Crystal? Ma guarda, è un cane che non sta mai fermo, anche se diciamo che non potrebbe muoversi più di tanto. Ha problemi di deambulazione, ma cosa è successo qualche anno fa nella vita di Crystal? Due anni fa è stata morsa da un pitbull, gli abbiamo fatto tutte le terapie possibili per vedere di non farla rimanere disabile, però non c'è stato più niente da fare. Come vive Crystal? Qual è l'impegno di Gabriele per cercare di alleviare, per certi versi, le pene di Crystal? Allora, innanzitutto non la lascio mai sola, o sempre con noi, con me e con la mia compagna, o la lascio da mia madre, tutte le mattine praticamente, quando vado al lavoro. E gli faccio fare i bisogni che non riesco a fare da sola tre volte al giorno.